Sina 22 del porto di Ancona, qui sono iniziati i lavori di allestimento per accogliere le due navi con a bordo in tutto 110 migranti naufragati in mezzo al Mediterraneo. Domani sera l'arrivo dell'Ocean Viking della ONG SOS Mediterranea con a bordo 37 persone, 12 minori. Poi il giorno dopo la Gio Barents di Medici Senza Frontiere con altre 73 persone e 16 minori. Autorità portuale, protezione civile, capitaneria di porto, croce rossa, comune di Ancona lavorano tutti con il coordinamento della prefettura. Nella sede locale del governo si susseguono le riunioni per mettere a punto la macchina. Questa sera è previsto il punto finale con tutti i soggetti coinvolti. Un porto attrezzato, adeguato, la città è votata anche all'accoglienza quindi non ci sono dubbi sulla capacità di accoglienza di Ancona. Una volta arrivati i migranti verranno identificati e sottoposti a visita medica. Alcuni hanno riportato traumi e ferite dal viaggio e stanno affrontando altri 1500 km di mare mosso. Poi saranno destinati ai centri di accoglienza gestiti dalle prefetture. Ancora non si sa di preciso dove ma probabilmente anche fuori dalle Marche. Questi centri di prima accoglienza che sono gestiti dalle prefetture su due anni in ambito di un territorio più vasto e ovviamente di quello soltanto marchigiano. Come è sempre avvenuto insomma, d'altra parte per anni abbiamo ricevuto, abbiamo accolto quelli che sbarcavano in altri territori della nazione. E proprio sulla destinazione dei 110 a bordo delle due navi insiste la sindaca di Ancona. Il comune farà la sua parte con servizi di sostegno e supporto ma anche il governo, dice Valeria Mancinelli, deve fare la sua. Io mi aspetto che il ministero faccia il suo lavoro destinando attraverso la prefettura, attraverso disposizioni centrali del ministero le persone che sbarcano presso le strutture autorizzate e finanziate dal ministero stesso in tutta Italia.